Il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e insieme al consigliere Pierpaolo Petrucci hanno presentato oggi a Palazzo dell'Emiciclo la cena di beneficenza a favore della Caritas dell'Aquila organizzata dallo chef stellato William Zonfa. L'iniziativa si svolgerà il prossimo 3 settembre alle ore 20 all'Aquila nella prestigiosa sede di Palazzo dell'Emiciclo che verrà appositamente messa a disposizione per l'occasione. Non solo una serata all'insegna della beneficenza alla Caritas di Coppito ma soprattutto una grande organizzazione e promozione della nostra città capoluogo di regione l'Aquila organizzata dallo chef Zonfa del ristorante Magione Papale ma subito alla sua chiamata hanno risposto diversi chef stellati abruzzesi quindi sarà una carrellata di conoscenza ma soprattutto di promozione dei prodotti tipici nostri del territorio ma di quanto l'Abruzza è importante da scoprire intrigante. Una cena di beneficenza che nasce dall'idea dello chef Aquilano Zonfa e che vedrà la presenza dei migliori chef stellati abruzzesi. Una notte dove le stelle e gli artigiani e gli ambasciatori del gusto del nostro territorio lavorano tutti insieme per fare questo atto benefico e anche promozione del territorio. Tra i primi a rendersi disponibili è anche il consigliere regionale Pietrucci che ha ringraziato in modo particolare lo chef Zonfa sottolineando l'importanza per la città dell'Aquila di queste iniziative benefiche. Un evento straordinario come diceva bene lei perché mette insieme non solo i chef stellati riesce a fare sistema. Lo fa in uno dei spazi pubblici più importanti che siamo riusciti ad aprire alla nostra città. La qualità dei spazi pubblici è importantissima soprattutto quando vengono riaperti al pubblico quindi resi accessibili anche con l'eliminazione delle barriere architettoniche a tutta la collettività. Per informazioni e prenotazioni è necessario rivolgersi al ristorante Magione Papale.